Volevo chiedere al nostro amato sindaco, ma ci correggiamo, dopo 60 anni se ci può mettere in mezzo a una strada oppure sbattarci via, verso Cambli, verso Giulianova, verso... No? Io dico, è possibile questo? Ha l'autorizzazione per poterlo fare? Può poter gestire 90 famiglie, 90 anziane e matrivo a casa parlando di cose? Lei ha speso dei soldi per ristrutturare la casa in questi anni? Ma come no? Io sono speso il fior di quattrino, perché quando andai ad abitare là non c'era né fonico, né luce, niente, ci abbiamo dovuto fare tutto da noi. Ora che la casa è a Giba arriva lo Sineke, ci vuole sbattere fuori, non sai dove ci vanno. Da quanti anni abita in quelle abitazioni? Mia moglie ha 54 anni. Avete anche speso per ristrutturarla quella casa? Tutti i miei risparmio. Ma nemmeno l'ho messo dentro la casa. Adesso è preoccupato ovviamente perché non sa dove andare. Certamente. Chi è che non sarebbe preoccupato quando ti dice che non sa dove devi andare o meno? Se oggi paghiamo 50, domani paghiamo 300, quindi dove li prendiamo i soldi? Il sindaco si dovrà mettere in mente per dire che cosa vuol fare prima di parlare, deve avere le cose, dei disegni scritti a dire questo è. Lei è una madre anziana che in questi giorni, in questi mesi si è molto preoccupata per la situazione di Via Longo. Sono anni che è preoccupata mia madre di questa situazione perché pensa sempre che la cacceranno fra un mese, fra due mesi. Una persona che ha 88 anni, quindi è anche disabile, abita al terzo piano. Già per lei il problema ogni volta è scendere le scale, cioè per tutti noi. Lei si preoccupa perché adesso dice che a agosto la cacceranno, poi lei vive con queste persone da 50 anni e metterla da sola in un altro posto, cioè muore, praticamente è una persona che morirebbe sola, anche se ci siamo noi, però non ha più uno scambio, non può parlare più con nessuno. Loro si controllano fra di loro, cioè quello è un paese ormai, gente che si conosce da 50 anni, gente che non dorme proprio, non dorme alla notte. Il sindaco, cioè l'amministrazione pubblica deve tenerne molto conto perché creare disagio a delle persone a livello psicologico si può legalmente ricorrere anche nei loro confronti, penso. Questo è il modo di gestire dei cittadini, degli andiani soprattutto, questo è il modo. Io sono un sindaco, io personalmente mi vergognerei.